Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Airforex.com e questo video vuole parlare di una novità in uno strumento finanziario che utilizzo ormai molto, che sono i certificati Turbo 24 ed è l'inserimento degli stop loss classici. Se conoscete già questo strumento Turbo 24 sapete che fino a una settimana fa circa non c'era la possibilità di inserire questi stop e da appunto qualche giorno c'è. Quindi su questo video vorrei andarmi a concentrare su come si inseriscono questi stop e magari anche il loro utilizzo. Siccome nei certificati Turbo 24 la possibilità di inserire degli stop classici è esclusiva a posizioni già a mercato, ripeto, l'inserimento degli stop loss classici nei certificati Turbo 24 è possibile solo se si ha già posizioni aperte e quindi dalla posizione aperta inserire un eventuale stop loss classico, ovviamente vi farò vedere da una posizione aperta che ho, tra l'altro questo che vedete è un conto reale, è il mio conto reale dei certificati Turbo e vi farò vedere su una posizione che ho appunto aperto come si inserisce questo stop. Quindi andiamo a tutto schermo, eccoci qua, e da qui vediamo subito quella che è la situazione del certificato Turbo per lo stop. Allora intanto vado a prendere, eccola qua, questa qui è la posizione. Ho una posizione aperta Long sul dollar Yen, aperta tra l'altro da pochissimo, e quindi colgo la palla al balzo e vi faccio vedere che cosa succede. Allora intanto quando si va a fare, a comprare dei certificati Turbo su un mercato, lo sapete intanto si comprano e basta, quindi con questo non significa che si può andare solo Long, si comprano per andare Short, quindi si comprano certificati Short per andare Short, certificati Long per andare Long, ecco qua. Nel momento in cui io voglio andare a Long, come sapete, posso andare Long e andare a prendere una zona di knockout, di KO, come potete vedere. Questa zona di KO è il massimo investimento, quindi siccome non è come per esempio nei CFD, dove noi utilizziamo un margine a garanzia di un'operazione e da quel margine abbiamo poi un eventuale stop loss in euro, e in questo caso non è così, cioè nei certificati Turbo io investo, mettiamo caso, 100 e questi 100, nel momento in cui io vado a scegliere per esempio questa zona, 105,57 KO, il mio investimento di 100 andrà a zero. Quindi fatto 100 da qui che compro a qui che ho il knockout, fatto 100, quindi investo già 100, se questa scende, 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 arriva qua e il mio investimento va a zero. Non c'è il concetto di margine, eccetera. Cioè che investo X, se arrivo qui, la posizione si conclude e va a zero. Posso ovviamente concludere alla prima e quindi vuol dire che se faccio così, se investo così e la posizione va nella riga knockout, vuol dire che il mio investimento è stato perso, diciamo, ok? Ed è, come si può dire, garantita quest'area, cioè essendo che qui è 100, non è che posso perdere più di 100, investo 100 ed è così. Non è, diciamo, che potrebbe somigliare a uno stop garantito, ma in realtà non l'è, è proprio il massimo investimento. Detto questo, quindi possiamo inserire anche questi stop. Come si fa? Allora, intanto dobbiamo avere già una posizione in atto che io ho, vado su posizioni, su posizioni vado a cliccare sell, quindi vendi la posizione, scusate, vediamo se facciamo così, sell, eccolo qua. Lui mi apre il ticket di negoziazione ancorato alla mia posizione che ho, long in questo caso, quindi un certificato long sul dollaro yen. Vado sulla tabella tipo di ordine, sul tabella del tipo di ordine, ci sono queste diciture. Io prenderò l'ultima, che è stop ordine a mercato solo vendita, la clicco, e una volta cliccato, quindi, ho cliccato questo, diciamo, stop classico. Gli do, apri turbo calculator, e qui lui mi chiede di inserire il livello del sottostante dove voglio posizionare il mio possibile stop classico. Quindi, siccome questo è un esempio, ma questa è una posizione reale che ho, vi faccio un esempio comunque sempre abbastanza lontano, e mi metto magari, non lo so, voglio mettere uno stop a 107,20. Facciamo un esempio. Benissimo. Gli vado a scrivere 107.20, lui mi dà il prezzo del turbo stimato, lo copio allo stop e mi dà esattamente, vedete, 1.639 sottostante 107,20. Buono fino a cancellazione, quindi non giornaliero, ma fino a quando lo cancello io. Benissimo. E mi dice la quantità. Ovviamente, in questo caso, potrei anche dare una quantità diversa. Cioè, potrei voler uscire in stop qui, con mezza posizione, magari. Cioè, potrei alleggerire, non so, la posizione, o nel momento in cui, poi magari vediamo l'esempio, solo in profitto, anche andare in trailing stop e magari chiudere metà posizione su un livello in trailing stop e lasciare aperta un'altra parte. Insomma, posso fare, da questo punto di vista è molto elastico, posso fare quello che voglio. Quindi, che cosa succede? Succede che poi vado a fargli anteprima dell'ordine, quindi, papapapapapa, anteprima ordine. Vedete che qui non ho nessun ordine di apertura, è tutto a zero in questo momento. Gli do inserimento ordine, boom, e lui mi dice, ordine ricevuto, attivazione stop, bla bla bla, vado su ordine che adesso è uno, clicco e vedete che c'è l'ordine collegato al mio livello di knockout, alla mia posizione, 159, che sono i certificati che ho comprato, e quindi nel momento in cui verrà eseguito lì, io verrò eseguito con uno stop loss, diciamo più classico. Se lo voglio eliminare, elimina, e lui dopo un po' sparisce tutto. Eccolo qua. Quindi, andiamo a vedere nuovamente la posizione, eccola qui, adesso è pulita, non ho più nulla, e questa situazione diventa interessante, perché posso gestire, no, in un certo modo le cose, posso decidere, insomma, di avere una gestione anche più attiva, ma soprattutto, senza dover per forza controllare, a guardare sempre la posizione, perché bene o male, ho anche questa possibilità. Per esempio, se dovessi avere il mercato che inizia a salire, e qui decido di voler inserire, non so, uno stop in trailing, quindi andare a non perdere più, bloccare la posizione in profitto, quando arrivo a 109,70, posso decidere di inserire uno stop, come vi ho appena spiegato, a, non so, qualche punto, qualche pip, sopra il mio prezzo di carico. Facciamo un esempio, sono entrato a 109,20, metto a 109,30 con lo stop classico, così nel caso in cui va qui, e dovesse tornare rapidamente giù, io comunque avrei bloccato la posizione in profitto. Quindi, è sicuramente un tipo di ordine, questo qui degli stop, che può essere utile, quindi è un qualcosa, una caratteristica, che mi sembrava interessante, andarvi a raccontare, che c'è, visto che, ultimamente, siete in molti, che state iniziando a utilizzare questi certificati, per operare sui vari mercati, e io stesso li sto utilizzando tantissimo, come potete vedere, anche ho questo dollaro yen, su cui sono dentro. Bene, quindi, per oggi è tutto, io direi che, eccoci qua, spero possa esservi utile, anche questa spiegazione, se avete comunque delle domande, potete scriverle qui nei commenti, perché, sicuramente, poi, vi risponderemo, vi ricordo, che nella descrizione, del video YouTube, quindi qui sotto, c'è anche il link, diretto, alla piattaforma, dei certificati Turbo, se volete provarli. Detto questo, vi chiedo, ovviamente, di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo, al prossimo video. Un saluto. Grazie.